A tutti una buona giornata, le previsioni per oggi. In parte è soleggiato, al mattino cielo velato con banchi nuvolosi e localmente quattro gocce verso il piede. Nel pomeriggio annuvolamenti cumuliformi sui rilievi con qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi, caldo più umido e affoso, temperature massime tra 29 e 32 gradi.